benvenuti a lezioni di cioccolato oggi insieme creeremo un divertente barattolo autunnale per farlo io utilizzerò un vietnam a 45 e tu invece cosa userai buongiorno sebastiano utilizzerò anch'io al vietnam 45 andando un pochino a a copiare quelli che sono i gusti del tuo barattolo i gusti autunnali ma in una versione un pochino differente una versione a più 4 gradi poi entreremo piano nelle nelle specifiche per quanto mi riguarda ho pensato anche a coloro che non utilizzano la tecnologia del freddo quotidianamente però vogliono fare comunque dei dolci gustosi dedicare una parte di vetrina a questa tipologia di prodotto che comunque chiuso in barattolo si mantiene più tempo e tu ce lo insegni bene secondo me è un'ottima idea tra l'altro entriamo nel clou del nostro nei nostri dolci perché io farò una rivisitazione di mont blanc o monte bianco quindi questo barattolo appunto come diceva simone da conservare consumare a una temperatura negativa quindi il prodotto sarà conservato a meno 18 gradi servito a meno 13 quindi appunto nel nelle realtà come la mia che appunto una vetrina meno 18 espongo questo prodotto e in vetrina meno 18 il consumo deve essere tra virgolette nell'immediato l'idea di trasformarlo che adesso vedremo cosa cosa propone simone e a 4 gradi secondo me è un'ottima idea perché puoi prendere tutta la fascia di coloro che hanno bisogno di riempire un piccolo spazio nella vetrina in positivo ottima idea cominciamo iniziamo bene eccoci qua allora il barattolo come appunto dicevo avrà un parfait al cioccolato in questo caso utilizzerò appunto come dicevamo il cioccolato vietnam 45 e avrà un dischetto farò questo parfait e avrà questo dischetto di meringa che andrà a separare appunto il parfait al cioccolato con il semi freddo alla vaniglia bene io inizio perfetto per quanto riguarda la mia ricetta sebastiano io ho fatto una crema al cioccolato da congelamento abbiamo detto che il barattolo verrà servito a quattro gradi ma questo non vuol dire per una produzione che io debba farlo quotidianamente grazie alla miscela di zuccheri che abbiamo all'interno abbiamo l'estrosio abbiamo la tremolina e lo zucchero del saccarosio abbiamo una struttura che mantiene al congelamento quindi basta fare la crema dressarla andare in abbattimento e fare lo stoccaggio che oggi immagino se batumi confermi è la cosa fondamentale una produzione assolutamente anzi ottima idea perché tra l'altro un consiglio che posso dare perché mentre c'è il confronto fra colleghi bisogna anche cercare di rubacchiare di quella di là quelle che possono essere delle idee per un motivo solo chi ha un'azienda deve riuscire a vendere quello che fa e secondo me può essere anche interessante inserirla in un in un bignè fare un bignè al cioccolato tenerlo stoccato e metterlo anche in vetrina quindi ottima idea allora la prima fase quella di miscelare diciamo gli zuccheri a parte la tremolina cacao tutto quello che è il secco quindi zucchero cacao amido destrosio amido di mais quindi amido di mais amido di riso amido di mais ok si è fatto anche un'ottima scelta sul sull'amidaceo perché comunque fondamentalmente per una crema pasticcera da congelamento è sempre preferibile mettere una parte di amido di riso perché comunque l'amido di riso avendo comunque una catena diversa dall'amido di mais quindi una catena triangolare che riesce a tenere più bloccata l'acqua è preferibile mettere l'amido di riso ma in questo caso che ha aggiunto del burro della trimolina del destrosio secondo me è fatto anche una scelta giustissima per la sua consistenza e quindi se bastiano una crema pasticcera consigli di andare a fare anche un'eventuale miscela tra gli amidi esatto il mio consiglio è sempre su una crema pasticcera di andare a utilizzare quello che è sia l'amido di riso che comunque è molto importante per la sua struttura perché ha la parte strutturante compatta della crema la dà l'amido di riso in quel caso l'aggiunta dell'amido scusi dell'amido di mais invece l'aggiunta dell'amido di riso dà la scioglievolezza e una giusta vischiosità di del prodotto con anche un po di lucentezza quindi è molto importante in quel caso anche per il congelamento perfetto ho aggiunto la tremolina ed il tuorlo vado a miscelare poi stempero con il latte e la panna e vado in cottura quindi anche te cuocerai microonde cuocerò microonde assolutamente e dopo andrò a versare sul nostro cioccolato vietnam 45 in emulsione e finirò con del burro perché vietnam 45 te perché volevo copiarti hai fatto bene ma cos'è che ti piace del vietnam 45 mi piace il fatto che sia che abbia questo gusto comunque tostato pur essendo un cioccolato al latte quello che è lo zucchero di un cioccolato al latte diciamo standard viene esaltato e anche nascosto da quella che è la la fermentazione delle pavie di cacao che è controllata e su questo su questo gioco di di sapori si possono costruire davvero grandi abbinamenti grandi ricerche sono d'accordo perché anch'io lo trovo un cioccolato veramente straordinario sia di struttura una volta sciolto che anche a livello di profumazione è molto 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 gradevole poi per essere un cioccolato al latte avere il 45 per cento comunque di massa all'interno è un prodotto notevole quindi non parliamo di un cioccolato al latte ricco di latte ma è una buona percentuale anche di massa quindi si chiamarlo cioccolato al latte forse anche un po' riduttivo esatto esatto sono d'accordo bene io ci sono quasi la particolarità di una crema inglese cotta in microonde ha una piccola osservazione posso fare non sono a misurarla col termometro perché comunque il microonde una volta tirata fuori la crema non ho mai il giusto grado di cottura quindi mi regolo a occhio su quella che può essere la sua struttura quindi non sarà una densità di crema pasticcera ma sarà una densità di coagulazione del tuorlo quindi quando vedo che fa un piccolo ritorno del movimento delle della frusta mi accorgo che appunto è cotta la mia crema inglese e vado appunto a versarla sul mio vietteramo 45 ok come vedete è avvenuta la coagulazione del del tuorlo quindi fa quel piccolo ritorno di vortice che vado a versare nel mio cioccolato quindi in drops tranquillamente perché non l'ho tritato perché ho bisogno di raffreddare immediatamente la mia crema e nello stesso tempo devo andare a a mixarlo quindi qualora volesse utilizzare un altro tipo di cioccolato bisogna vedere la sua parte di massa all'interno perché è l'unico elemento che comunque ti va a sfasare il bilanciamento della sua ricetta però è fattibilissimo ok come appunto dicevo questo parfait è un è un parfait anche comodo nella fase produttiva perché perché io adesso andrò a inserire la panna liquida che mi andrà ad abbassare la temperatura ma nello stesso tempo inserirò questa parte grassa per far sì che una volta freddato bene e fatto cristallizzare appunto il cioccolato all'interno della massa totale riesco appunto riuscirò a montare tutto il composto e a montare il mio iniziare a montare il mio barattolo ok inizio inserire la panna ok io ho terminato una cosa molto importante è sempre mettere una pellicola a contatto per evitare che il prodotto da un una crema una ganache un qualsiasi cosa faccia appunto la pelle in superficie quindi una pellicola in contatto ok nel frattempo seba io sono arrivato a quella che la pastorizzazione vado a versare sul cioccolato emulsiono ed infine aggiungerò al burro per assurdo la pasticceria è sempre composta dai soliti ingredienti ma guardate in concomitanza due prodotti cioè stessi ingredienti due realizzazioni completamente diverse naturalmente lavorando con la conservazione a meno 18 e il servizio a meno 15 meno 13 in questo caso naturalmente la mia ricetta sarà ricca di zucchero all'interno naturalmente lo zucchero anticongelante e e questa la caratteristica di un semi freddo naturalmente perché perché avendo l'acqua all'interno legata dallo zucchero fa sì che in temperatura negativa rimanga cremoso io monto il mio parfait prendo un attimo intanto io ho finito completato la emulsione anch'io pellicola contatto e in frigorifola a lasciar stabilizzare per 12 ore quindi avremo una struttura cremosa che potremmo andare a dressare direttamente nel nostro barattolo montare e ci prepariamo anche al montaggio ok io simone sono pronto pronto anch'io come vedete questo è il nostro parfait e questa è la nostra crema al cacao bellissimo e lucidissimo è lucidissimo si non te la do la ricetta bella copierò la trovo dai allora la meringa che abbiamo fatto è una meringa che ha una parte di albume e tre parti di zucchero di cui due parti di zucchero sono di zucchero semolato che vanno inserite all'inizio della del montaggio la parte di la terza parte della parte di zucchero a velo è una parte che viene inserita a mano perché perché lo zucchero a velo ci dà questa parte strutturante della meringa quindi ci dà la possibilità di inserirla in un prodotto e non far prendere troppo e subito umidità ok la cottura importantissima della meringa in questo caso noi abbiamo fatto una cottura a 200 gradi per 4 minuti e poi 60 dai 60 ai 80 90 minuti a 110 gradi per far sì che il primo caldo lo gli dia un colpo di calore poi la parte successiva della cottura serve per punto asciugarla c'è un mondo anche sulle meringhe assolutamente pochi ingredienti ma veramente un mondo hai detto bene allora il nostro parfait è dressato la parte di cioccolato che io ho reso in granella può essere o mescolato all'interno del parfait oppure inserito in superficie la particolarità del barattolo è che ti dà la possibilità di avere diverse strutture comunque bloccate e trattenute all'interno del barattolo noi abbiamo fatto una vendita di quasi 80 85 mila barattoli in quattro anni quindi vi posso assicurare che è un prodotto che funziona ma funziona anche per la sua comodità il barattolo è un barattolo comunque in pvc non è in vetro ha una grammatura di 200 grammi ma quando si arriva a un peso di 120 130 grammi è più che sufficiente inseriamo le nostre meringhe eccoci qua prima di cominciare penso sia doveroso comunque dare due piccole nozioni su questo cioccolato che io ho scelto e tu hai copiato il vietnano 45 monorigine al latte con una combinazione di profumi paradisiaca all'assaggio presenta note di caramello caffè e latte cotto su uno sfondo di cacao acido è straordinario a mio avviso io ti copio anche secondo me è straordinario cominciamo subito pronto voce a te voce a me voce a me ma per quanto riguarda il penultimo passaggio io farò una chantilly quindi panna zucchero e ovviamente una bacca di vaniglia all'interno uno chantilly francese nel vero senso della parola io invece sto facendo un semi freddo naturalmente per differenziare quello che può essere la la panna la vaniglia deve appunto mettere all'interno dello zucchero per far sì che rimanga cremosa questa temperatura negativa in questo caso o la meringa quindi la mia meringa l'italiana già cotta e tenuta in freezer quindi anche questo può essere un passaggio prodotto anche un giorno prima e tenuto in freezer nel momento in cui bisogna utilizzarlo si tira fuori dal freezer e si pesa la quantità che serve o la panna la meringa e la vaniglia naturalmente la vaniglia va incisa su un lato e poi va spolpata senza fare troppa pressione perché possono venire fuori dei filamenti e naturalmente i filamenti possono non possono sono sgradevoli sia alla vista che al gusto quindi si prende solo la polpa della vaniglia si aggiunge una piccola parte di meringa per stemperare appunto la bacca di vaniglia e nel frattempo inizio a montare la panna la velocità massima giusto se va assolutamente no no anche la panna sempre quel discorso lì di montarla non a massima velocità ma gradualmente per far sì che appunto ingloba un'aria piccola e uniforme in questo caso mescoliamo la bacca la polpa della vaniglia per stemperarlo un po e far sì che non smontiamo appunto tutta la meringa che ci serve l'aria all'interno ok e adesso la uniamo nel restante della meringa allora la panna io vado a stemperare con la meringa un po di panna io nel frattempo ho montato la panna con la vaniglia panna alla vaniglia non ho capito bene per me panna alla vaniglia è più che giusta come termine è più semplice ok allora io vado a dressare nel barattolo ho nascosto il marron glacé se ti può interessare mannaggia ma ti prego ho preparato un'altra cosa perché volevo fare un abbinamento un pochino indifferente però diciamo un altro gusto che va incontro è vero a quello che è il Natale l'inverno però ci sta benissimo con il gusto autonale marron glacé e sono dei mandarini quindi dei mandarini tagliati a metà messi ora sulla sulla mia panna alla vaniglia e poi faremo la finizione ottimo abbinamento mandarino e castagna e marroni in questo caso per me è straordinario anche questo complimenti però la dobbiamo assaggiare assieme assolutamente tutta la frutta acida in abbinamento a una frutta con guscio che può essere mandorla e arancia come nocciole e limone per me sono ottimi abbinamenti qui abbiamo dei marroni canditi non sono proprio i marron glacé perché i marron glacé vengono glassati con lo stesso sciroppo allungato oppure in aggiunta di zucchero a velo quindi si fa questo composto che viene appunto glassato e poi passato in forno e quindi quello è il vero marron glacé io adesso vorrei appunto aggiungerne qualche pezzetto sì naturalmente io il mandarino non posso metterlo perché tenendo un prodotto a meno 18 gradi quindi il mandarino è pieno d'acqua e naturalmente a temperatura di servizio sarebbe ghiacciato però a 4 gradi secondo me è un'ottima idea assolutamente si può giocare forse con più abbinamenti in questo senso una frutta fresca andare incontro alle stagionalità e poi io per avvicinarci a quello che può essere una piccola decorazione di monte bianco lo stesso marrone appunto in questo caso candito l'ho reso in pasta e e prova a mettere qualche capellino sopra stavolta t'ho fregato perché non sei riuscito a nasconderlo e quindi io sono riuscito a rubartelo e vado a fare la stessa identica cosa però questo non appunti è questa è la mia l'idea bene grazie mille simone alla prossima al prossimo video al prossimo appuntamento no ma seba scusa come ciao non assaggiamo? ah volentieri certo io assaggio il tuo ah no io assaggio il mio io assaggio tutte e due basta volentieri vediamo un po cosa abbiamo combinato si lo so andiamo un po' di fretta perché dovrebbe essere più freddo però eccezionale molto buono mi ricorda mi ricorda appunto il monte bianco con questa profumazione di mandarino complimenti buono eccezionale bravo Simo lo vediamo alla prossima vediamo adesso chiuse le telecamere per vedere chi lo assaggia va bene dai a voi la degustazione ciao grazie ciao ciao